State ascoltando SPS Italian. State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io sono Magica Fossati e la nostra ospite di oggi è un'artista italiana che vive a Melbourne. Si chiama Gloria Sulli. Benvenuta a Radio SBS. Ciao Magica, grazie. Ciao, grazie a te per essere venuta a trovarci appena rientrata, tra l'altro, da un periodo all'estero di cui poi ci racconterai. Gloria, tu sei un'artista, vivi qui in Australia da un paio d'anni e presto terrai una serie di laboratori al Coasit di Melbourne, rivolti peraltro a bambini e bambine. Ma iniziamo dalla tua storia, da dove vieni e come sei arrivata qui da un'altra? Sì, allora sono arrivata due anni fa, ottobre 2022, perché ho sposato un australiano conosciuto a Londra e siamo stati insieme diversi anni. E poi dopo il Covid, dopo la Brexit anche, abbiamo deciso di venire a vivere qui in Australia. E sì, mi trovo bene, mi sono trovata bene. Tu lavoravi già come artista anche in Italia prima di partire? Certo, ho studiato in Italia all'Accademia di Belle Arti di Firenze e per anni ho lavorato lì. Poi trasferitami in UK ho lavorato come artista anche lì, ovviamente part-time, facendo anche mille lavori. E quindi ora anche in Australia continuo il mio percorso professionale artistico. Insieme tra l'altro invece ad un percorso, come dire, parallelo, ma che immagino un po' si intrecci in qualche modo. Mi stavi dicendo che fai anche la support worker. Sì, esatto. Da quest'anno ho iniziato con questa associazione, lavoriamo con i disabili adulti, però per anni ho lavorato quindi con abilità differenti, con bambini, specialmente nelle scuole, nelle nursery. Sì, mi sono trovata bene. È vero che è parallela questa attività lavorativa, quella artistica. Come artista tu come ti presenti? Chiaramente siamo alla radio, quindi non possiamo mostrare le foto che poi magari potranno vedere gli ascoltatori curiosi sul tuo sito. Però sei una scultrice, come dire, possiamo descrivere le tue opere? Esatto. Il mio focus è sicuramente la scultura. Realizzo delle sculture di piccole dimensioni in ceramica e anche in materiali diversi, come la ceramica policroma o altri materiali. E ho dei soggetti molto organici. Diciamo la mia arte è tra l'astratto e l'organico. Mi piacciono gli elementi vegetali ed animali che poi rielaboro in maniera molto personale e creo delle opere che vogliono essere viventi, proprio come noi. Infatti ho anche una pratica di sculture gonfiabili, che è una pratica un pochino più giocosa, che mi permette proprio di creare delle vere e proprie opere che respirano e che, diciamo, vivono di vita propria. Bellissimo. Senti, tu appunto proprio recentemente sei ritornata da un soggiorno lungo di tre mesi in Cina, proprio grazie al fatto del tuo lavoro di artista. Ci puoi raccontare che cosa hai fatto? Perché fuori onda mi accennavi che è stata un'esperienza molto speciale. Sì, davvero. È stata davvero incredibile. È una residenza artistica a Shanghai, finanziata dalla Swatch, quindi dalla Svizzera, che appunto investe sugli artisti e ha creato questo hotel di residenza per gli artisti. Quindi ci sono artisti ospiti da tutto il mondo ai quali appunto viene offerto uno studio. Io ho avuto uno studio enorme dove ho potuto praticare e lavorare a tempo pieno. Quindi eravamo ospiti, avevamo anche vitto alloggio e avevamo tutte le, diciamo, l'opportunità e le facilities per lavorare in maniera molto professionale. Un'esperienza davvero favolosa e anche un'occasione unica, immagino, poterti dedicare completamente al tuo lavoro d'artista. Assolutamente, assolutamente. Poi in una città molto vibrante come Shanghai, insomma, è stata davvero un'esperienza unica. Eravamo proprio lì nel centro nevralgico della città. Insomma, la Cina è una potenza, su tutti i punti di vista, anche artisticamente brulica di opportunità e di eventi artistici. Dal punto di vista invece dell'Australia, come è stato l'impatto con questo paese dal punto di vista artistico? Sicuramente molto accogliente. Mi sono trovata subito bene e qui in Australia credo che capiscano bene il mio lavoro perché c'è una grande sensibilità verso la natura e le mie forme sono, come dicevo, organiche e naturali, quindi vengono capite molto di più. Anzi, credo che la mia arte piaccia molto di più in Australia che non in Europa, dove appunto la coscienza ecologica è diversa, diciamo. e mi sono trovata bene, come dicevo. E il paesaggio, la natura australiana hanno in qualche modo cominciato anche a modificare quello che tu fai? Tantissimo, perché appunto c'è una natura molto forte, molto diversa da quella che conosco e quindi per me è molto di ispirazione. Ricordiamo che stiamo parlando con Gloria Sulli, artista italiana, che presto terrà un laboratorio, tra l'altro ispirato alla primavera di Botticelli, rivolto a bambini e bambine, tra l'altro di età abbastanza giovane, direi, perché uno è rivolto a bambini e bambine tra i tre e i sei anni e l'altro tra i sette e i dodici anni, quindi età giovanissime. Com'è lavorare in un contesto artistico con bambini così piccini? Esatto, sicuramente molto bello, molto esperienziale, anche con i bambini così piccoli il laboratorio è una specie di gioco, però è importante per loro giocare e attraverso il gioco loro imparano tantissimo, quindi è un momento molto fertile per l'educazione artistica anche dei bambini. Sì, come dicevo, esperienza con i bambini piccoli, per me è divertente, mi diverto tantissimo. Quali tecniche userai nel corso di questi laboratori del Quasit? Esatto, quindi il laboratorio è ispirato alla primavera e con i bambini piccoli faremo un laboratorio pittorico dove realizzeremo degli alberelli fioriti e dei fiori utilizzando lo stampo di alcuni vegetali, quindi con delle tecniche pittoriche, come dicevo, che danno spazio alla loro espressività più libera. Mentre con i bambini più grandi, dai 7 ai 12 anni, c'è proprio un laboratorio molto più strutturato sulla primavera di Botticelli. Ci sarà una parte introduttiva proprio dell'opera d'arte dove spiegherò la storia del quadro e la storia dei personaggi perché è un quadro molto complesso formato da tanti personaggi mitologici che credo interesserà molto ai bambini. E poi ci sarà una parte pittorica dove ricreeremo proprio il ritratto della primavera che è Flora, che è questa signora completamente rivestita di fiori e la seconda parte invece sarà proprio più manuale dove costruiremo dei fiori di carta con carta crespa, carta colorata che poi i bambini possono scegliere o attaccare sul quadro, sul ritratto della primavera oppure costruire delle ghirlande di fiori e giocarci, insomma. Gloria, naturalmente questi sono i laboratori che si terranno per ora giovedì 26 settembre. Forse magari ce ne saranno altri in futuro e eventualmente poi ci aggiornerai. Sono in italiano o in inglese? Perché magari chi all'ascolto se lo sta chiedendo. Esatto. Con il Coasit abbiamo strutturato questi laboratori, saranno in inglese per renderli più accessibili, ma avranno ovviamente delle tematiche in italiano perché ovviamente il livello dei bambini di italiano è differente e quindi parlerò loro in italiano con alcune frasi o con alcuni temi cercando di insegnare alcune parole in italiano. Gloria, questo è appunto un laboratorio artistico per bambini. Dicevi che è anche molto stimolante lavorare con un'età così giovani, diciamo. Tu come ti sei avvicinata all'arte? A me è sempre piaciuto tantissimo disegnare. Passavo i pomeriggi a disegnare. Era proprio una forma di evasione e quindi poi mi sono avvicinata all'arte anche perché ho uno zio artista che appunto mi ha messo in contatto con i libri di storia dell'arte e quindi sì, ho avuto contatto grazie a lui. E poi appunto vivendo in Italia insomma il passo è stato molto breve. Sì, ho scelto studi artistici e ho sempre amato i musei e sì, le gallerie d'arte. Ti mancano un po' qui in Australia oppure in qualche modo hai trovato altre forme nuove in un certo senso per te di arte? Sì, esatto. Qui in Australia c'è una bella scena artistica e perché ora il mio focus è anche sull'arte contemporanea quindi Melbourne, diciamo, è anche molto attiva da questo punto di vista. Gloria, grazie per essere venuta a trovarci. Ricordiamo ancora una volta che questi workshop si terranno giovedì 26 settembre proprio durante le school holidays al Coasit di Melbourne per cui se siete interessati potete visitare il sito coasit.com.au Invece se volete saperne di più su Gloria, il tuo sito qual è? Sì, www.gloriasulli.com Perfetto, grazie, in bocca al lupo e a risentirci. Cliccate mi piace, condividete, commentate seguite SPS Italian su Facebook e, via il nostro sito a scatити ci엿